Visti dall'Europa, i risultati elettorali italiani sollevano preoccupazioni e timori per il rischio di ingovernabilità che contengono. Ma Bruxelles sceglie una linea di attesa e auspica che pur in un quadro politico complesso l'Italia non rinunci a giocare un ruolo di primo piano. Serve un governo stabile per uno dei principali paesi membri dell'Unione Europea. L'Italia fa parte del G8, è la quarta economia dell'Unione ed è uno dei pilastri dell'Eurozona. Per questo ciò che accade in Italia ha conseguenze su tutti noi. Come Martin Schulz, presidente dell'Europarlamento, ha anche Guido Westerwelle, ministro degli esteri tedesco. L'Italia gioca un ruolo centrale per una gestione proficua della crisi europea del debito. Per questo ci attendiamo che le politiche per il consolidamento delle riforme possano continuare anche con un nuovo governo. Nuovo governo che è anche negli auspici di Pierre Moscovici, ministro francese dell'Economia e delle Finanze. A auspico che Bersani riesca a formare un governo, un governo che sia un amichevole controparte per noi e che sia apertamente impegnato nella costruzione dell'Europa. Grazie. 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 Grazie.